A spanne le dico circa 200 milioni di euro sul settore ricettivo che rischiamo di vedere compromessi. Doveva essere l'estate della ripartenza definitiva. Due anni di sofferenza facendo i conti con il solo mercato interno, importante ma certo non sufficiente a risollevare le sorti del Veneto a trazione turistica. E ora che l'incubo Covid stava sparendo, la guerra arriva come un macigno, forse superiore. C'è il dramma umano di vittime e profughi ma pure il baratro di un fallimento economico. Per quanto riguarda i flussi provenienti da quell'area, il mercato russo pesa circa un milione di presenze nel Veneto. Se mettiamo assieme poi il mercato dell'est e anche delle aree confinanti, non perché questo mi auguro sia un oggetto di un'estensione del conflitto, ma perché diciamo che il concetto di vacanza mal si concilia quando si hanno delle situazioni di guerra e di instabilità. Se dovesse coinvolgere anche queste aree nel processo decisionale vuol dire che parliamo di circa 6 milioni di presenze. Sicuramente potremo contare ancora in una buona presenza del mercato interno, quindi degli italiani che tenderanno a maggior ragione adesso a restare forse ancora in Italia per questo 2022. In tutta sincerità le devo dire che noi speravamo quest'anno di rivedere un po' la ripresa del mercato internazionale. Lo stop alla quarantena per i paesi extra Unione Europea dal primo marzo, decisa dal governo, era stata vissuta come una liberazione prima che l'invasione dell'Ucraina facesse precipitare tutto. Ora, anche per aiutare le attività in quella che si annuncia come una nuova, difficile stagione, gli albergatori chiedono che almeno il Green Pass base per accedere agli hotel venga rimosso. Quello che noi chiediamo adesso, considerata anche l'allentamento della curva del contagio, di procedere velocemente anche con un allentamento delle restrizioni, così come hanno già fatto dei paesi i nostri concorrenti, pensiamo alla Spagna, pensiamo alla Francia che si sta accingendo a farlo, così come l'Austria, così la Germania, e quindi fare in modo che anche in Italia si possa circolare con maggiore facilità e con minori restrizioni.